SIGLA Ti do dieci secondi di vantaggio Che ti serve? Un costume da supereroe Forse una soluzione per te Sei bellissimo Mi prude Guarda di cosa tu stai vestito? Da dissenteria Fammi sparire e fammi diventare invisibile Sei un supereroe Sei il ragazzo invisibile E adesso devi aiutare la gente in pericolo Chi sei? Un fantasma? Non ti sembra strano che scappi proprio adesso? Tuo madre ti ha passato il suo dono E si è sacrificata per salvarti Sanno delle cose su di noi Forse cercano ragazzi Qualche talento particolare Hai già cominciato a scoprire le tue potenzialità? La divisione sa che sei qui Chi sei? Ma tu assisti veramente? Sulla! È tutta la vita Mi aspetto questo momento È tanto che ti cerchiamo Ciao da Valeria Oggi parliamo di colone sonore Perché The Guardians of the Galaxy Awesome Mix Volume 1 Soundtrack Titolo corto Ovvero la colonna sonora Dei Guardiani della Galassia È già uscita In coppia digitale Vinile CD Doppio disco E ora la Marvel e la Hollywood Records Sono pronte a mettere in commercio Una speciale limited edition Registrata su cassetta Il prodotto sarà disponibile Dal 17 novembre al 31 dicembre O fino a esaurimento scorte Nei negozi indipendenti In musica affiliati alla record Story Day Si tratta di una precisa riproduzione Del nastro posseduto da Peter Keele Il personaggio interpretato da Chris Pratt Con tanto di scritte a penna C'è qualcuno che ha già corso a comprarla? Al prossimo video Ciao a tutti